Anche quest'anno è attivo presso l'Università di Camerino il PF24, percorso formativo proprio ideotico al tirocinio per l'insegnamento, che prevede l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Viste le numerose richieste per il corrente anno accademico, ne sono stati riaperti termini per l'immatricolazione tardiva. La scadenza è fissata per il prossimo 25 maggio. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, nonché tutte le informazioni relative all'erogazione delle attività didattiche, sono disponibili sul sito di Ateneo www.unicam.it.